abbiamo un set di copiglie ad uso normalmente meccanico per cui diciamo si utilizzano in mille modi vediamo cosa sono se non le conoscete le copiglie sono in pratica queste prendo una a caso qui ce ne sono di varie misure prendiamole una piccola che forse faccio meno fatica sono quelle cose che si inseriscono in dadi sono delle spinette sono delle spinette una volta inserite poi si aprono in questo modo e questo semplice pezzo diciamo di metallo non fa altro che fermare eventuali azioni di svitamento del del dado richiede i dati forati per cui i dati particolari che hanno un foro all'estremità oppure anche dei bulloni qualcosa di molto semplice ma decisamente efficace lo si utilizza soprattutto nel mondo delle auto delle moto delle biciclette per far sì che diciamo si di freni la possibilità che un dado si svidi tutto qui il kit è un kit composto da non so adesso quanti pezzi parecchi di varie misure diciamo più o meno dovrebbero accontentare tutte le necessità vi lascio il link ad amazon come solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e se avete voglia di aiutarci iscrivetevi al canale è gratuito ci permette di acquisire più visibilità e questo ci consente di portare magari nuovi contenuti sul canale con una maggiore frequenza grazie e alla prossima